Ciao amici di internet e bentornati sul mio canale! Il video di oggi è un video che mi avete richiesto di recente ed è un video in cui vi mostrerò come organizzo il mio bullet journal che è, per chi non lo sapesse, un quaderno con le pagine bianche in genere in cui potete disegnare, scrivere, incollare cose o gestirlo anche come una vera e propria agenda che è quello che faccio io alla fine La prima pagina di solito la dedico a una sorta di introduzione del mese che sta per iniziare in questo caso agosto quindi scrivo il nome del mese lo decoro un pochino magari faccio qualche disegno dipende da quello che voglio fare sul momento Un'altra cosa che faccio è aggiungere un tracker quindi uno spazio in cui io scrivo i numeri delle persone che hanno iniziato a seguirmi sui due social che preferisco che sono YouTube e Instagram e questo in genere lo faccio per avere, diciamo, sott'occhio un effettivo incremento delle persone che si interessano a vedere quello che faccio e quello che condivido su internet Poi ho separato la pagina con un nastro glitterato di Tiger se non sbaglio e sotto ho voluto poi aggiungere un'area in cui ho scritto le mete che saranno quelle dei miei viaggi di questo mese infatti agosto sarà un mese che passerò per lo più fuori dall'Italia e quindi mi sono scritta i nomi delle varie città che visiterò che sono Parigi, Amsterdam, Hamburgo e Vienna Passo adesso alla realizzazione vera e propria della griglia, diciamo, del mese quindi tutti i vari spazietti delle varie giornate che poi andrò a riempire con quelli che sono i miei impegni i miei viaggi, le cose che mi devo ricordare e faccio innanzitutto questa griglia fatta a matita con un righello che ha delle dimensioni perfette e diviso tutte le varie giornate in seguito poi vado a ricalcarla con la penna nera a scrivere il numero della giornata e anche qui vado in realtà a decorarlo con timbrini con scritto il nome della giornata o il nome del mese insomma cerco di renderlo il più carino possibile avere questo tipo di griglia sott'occhio è una cosa che mi piace tantissimo perché mi permette a primo impatto di avere sott'occhio tutte le cose che dovrò fare durante il mese e di non dimenticarmi nulla perché sono vagamente smemorata Passo quindi poi a scrivere quelli che sono i miei impegni quelli che so già almeno quindi ho scritto le giornate che passerò nelle varie città che andrò a visitare in viaggio e qualche impegno qua e là o comunque cose che dovrei ricordarmi ovviamente in realtà è ancora tutto da riempire Aggiungo anche una sorta di leggenda con le cose che vorrei fare regolarmente quindi workout innaffiare le piante e pubblicare i video sul canale sono cose che cerco di fare abbastanza con regolarità Un'altra cosa che faccio un sacco sul mio bullet journal è tenere una sorta di diario in questo caso ho attaccato una foglia secca ma di solito incollo anche immagini cartoline e scrivere dei momenti delle cose che vorrei ricordarmi degli appunti insomma cerco un po' di essere il più creativa possibile nella realizzazione di questo mio diario Io spero che questo video vi sia stato utile o vi sia piaciuto e se ne volete altri simili ovviamente fatemelo sapere lasciate un pollice in su e se vi va andatemi a seguire in tutti i vari social che vi lascio linkati qua sotto grazie